But one thing I know, I know, I never love is all Questa mattina questa cup del Centro Tecnico Federale le due impressioni in merito a questo evento della federazione? Guarda, è stata un'esperienza che diciamo è arrivata alla conclusione con questa giornata dove abbiamo fatto queste partite dove abbiamo riunito i migliori delle annate 2002, 2003 e 2004 e si è visto finalmente un netto miglioramento soprattutto una grandissima partecipazione dei ragazzi abbiamo chiesto dei sacrifici enormi alzandosi presto soprattutto chi veniva magari per oggi, chi veniva da Castrovillari piuttosto che da Praia Mare la settimana scorsa lo stesso a Castrovillari per chi veniva da Reggio ma la voglia è un bel punto di partenza perché vuol dire che c'è voglia di fare, voglia di lavorare da parte dei tecnici, da parte dei giocatori e la grande disponibilità dei genitori fa sì che anche le società vuol dire che stanno coinvolgendo molto di più i ragazzi e oggi questo numero è nella prova Passiamo a un'altra pagina con la promozione della Mater Domini che annata è stata? È stata un'annata assolutamente divertente siamo partiti con l'idea di divertirci e ci siamo riusciti, abbiamo fatto la cena lunedì faremo l'ultima partitella in famiglia e siamo riusciti a rimanere un gruppo di 24 persone che hanno iniziato e che è rimasto costante nel tempo questo non c'è nulla di più bello perché poi alla fine è chiaro che su 24 persone si gioca in 12 e siamo sempre andati in 12 anche a Rossano molti facevano panchina l'obiettivo era sempre quello di vincere però è rimasto un gruppo formidabile devo ringraziare di questo in particolar modo Fabio Pirillo che mi ha dato un'enorme mano nella gestione e ci ha gestito come allenatore e giocatore al meglio delle sue capacità di questo non posso che essergli grato per il resto l'esperienza di Policrest ci ha dato tanto il ritorno di Luigi Mancuso e tutti i ragazzi che hanno deciso di unirsi anche gente che non aveva mai giocato a pallacanestro mi rende orgoglioso di tenere viva la pallacanestro a Catanzaro che è in un periodo purtroppo tra strutture tra numeri un pochettino calante e questo è un peccato proprio di strutture adesso ti volevo chiedere il delegato Scorzia ha parlato proprio di strutture le problematiche che ci sono come il palacorvo su tutti secondo te come andrà a finire e quali possono essere le soluzioni per far sì che questo movimento abbia di nuovo strutture come il palacorvo per esempio nuovamente fruibili guarda ci sono due fattori che devono devono esserci uno la volontà della pubblica amministrazione e il comune in primis perché sono due strutture comunali secondariamente probabilmente un maggiore pressing da parte di tutte le città che hanno un interesse reale a questo io con la CCB ho potuto vivere un'enorme difficoltà a creare il movimento a seguire i gruppi a organizzare le partite e di questo abbiamo dovuto anche ringraziare la disponibilità che Giovino ci ha dato e l'ospitalità che ci hanno dato quelli della Planet ma non può bastare perché Catanzaro così muore perché è stata un'annata assolutamente difficile da superare sotto tutti i punti di vista e credo che non è possibile che un palazzetto greco che aveva di preventivo 3-4 mesi di lavoro dopo un anno è ancora chiuso per questioni di agibilità che devono essere di uscita di sicurezza dove devono esserci diciamo l'autorizzazione dei vigili del fuoco e ancora siamo qui a cercare di capire se possiamo progettare un nuovo anno e ripartire a settembre con una struttura o meno perché è chiaro che se si può contare su una struttura si fa una determinata programmazione se ogni settimana dobbiamo chiedere il permesso a Tizio e a Caio per ritagliarci un turno è molto più difficile fare 5-6-7 campionati e questo è un male non solo per le cittadini di pallacanestro che poi alla fine è male che vada chiudono ma è un male per la città perché vuol dire non dare la possibilità a giovani di crescere di fare sport e togliere i ragazzi dalla strada che vuol dire non fare niente andare ai giardinetti e bersi la birra e quindi praticamente fare venire meno quello che è il concetto di aggregazione nello sport che viene ancora prima di quelli che sono gli aspetti tecnici e tattici che poi oggi stiamo qui a guardare but one thing I know I never love these holes che vuol dire